Paolo Trapanese è stato riconfermato alla presidenza del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto. Per l'ex olimpionico del Settebello è il quarto mandato consecutivo. L'assemblea elettiva che si è svolta all'Hotel Mediterraneo ha visto presenti 61 società su 64 affiliate in Campania. Trapanese, unico candidato alla presidenza, ha ottenuto il 96,73% dei consensi. L'assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio direttivo composto da Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele Avagnano, Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Agnello Fedullo, Enrico Gallozzi, Giampaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle società. Eletti in quota atleti Martina Grimaldi, Fabiana Lamberti e Lorenzo Iaccarino, per i tecnici invece è stato eletto Ciro De Martinis. Per il collegio dei revisori è stato eletto presidente Mario Libertino, Carlo Galloppi, revisore effettivo e Valentina Prisco, revisore supplente. E la conferma che il nostro è un mondo bello, incentrato su valori della lealtà, dell'amicizia, della familiarità e della meritocrazia, e di persone che vivono di passione sempre al servizio degli altri e che contribuiscono all'educazione dei ragazzi, ha commentato al termine delle operazioni di voto Paolo Trapanese.